Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci ritroviamo su Genshin Impact ed oggi parliamo di lui, il Bardo. So che è un personaggio che adesso non è più presente all'interno del gioco, ma per tutti coloro che hanno iniziato a giocare e che quindi hanno avuto la possibilità di trovare il personaggio in questione, ovvero Venti, voglio dare dei piccoli consigli sul come costruirlo, così come ho fatto con Razor nella puntata precedente, che tra l'altro vi ringrazio anche per aver visualizzato in un numero discreto di persone. Spero ovviamente che il video vi sia stato d'aiuto e oggi per l'appunto voglio parlare di Venti. Anche se è già un personaggio che non può essere più ottenuto in questo momento, magari tutti coloro che lo possiedono e che non lo riescono a sfruttare al meglio, non sanno effettivamente quale tesoro hanno praticamente tra le mani. Cominciamo col dire che innanzitutto Venti è un personaggio di tipo Vento, tipo Anemo anzi, per essere più tecnici nei confronti del gioco. Una qualità che a mio avviso è molto molto interessante, in quanto il Vento, in questo caso, all'interno del gioco, riesce ad inglobare diversi elementi e riesce addirittura a potenziarne gli effetti. Quindi diciamo che è un personaggio che va d'accordo con la maggior parte dei personaggi presenti all'interno del gioco, non solo tramite le combinazioni elementali, ma tramite ovviamente la sua build e le sue skill, che gli consentono addirittura di potenziare gli effetti anche dei suoi compagni, appunto tramite le reazioni elementali. Ricominciamo subito col dire che Venti è un personaggio che tendenzialmente si utilizza come supporto. Che cosa vuol dire come supporto? Solitamente è un personaggio che entra, effettua la sua elemental skill o la sua elemental burst, e poi esce per dare spazio ad un personaggio che comunque può restare sul campo da battaglia e che riesce comunque ad infliggere tanti danni. Un esempio potrebbe essere anche Razor, no? Quindi una combinazione di attacchi di Venti, che fa un elemental skill, un elemental burst, cambio il personaggio e poi sfrutti Razor per continuare a fare danni. Bene, oggi io vi parlerò di come ho costruito il mio Venti in modo tale da farlo restare anche sul campo. Quindi non solo un supporto che può dare comunque una mano a una squadra per intero, ma anche un personaggio che riesce a restare sul campo da battaglia proprio perché è in grado non solo di fare danni, ma anche di avere una grande survivability. Quindi una grande sopravvivenza a causa dei suoi HP e dei suoi potenziamenti. Il mio, come potete vedere, è già a 4 limit break, quindi massimo livello 70, che per il momento non ho ancora massimizzato a causa della mancanza di libri e di tempo, che purtroppo non ho per poter stare a farmare in maniera costante all'interno di Genshin Impact. Però le statistiche di base sono HP massimi 10.712, attacco 1.107, che vi posso assicurare essere parecchia roba, difesa 607, elemental master di 204 e stamina di 224. Se andiamo a vedere nel dettaglio le nostre caratteristiche, come potete vedere abbiamo praticamente gli HP che sono 7.400 di base con 3.200 HP in più, l'attacco che viene praticamente raddoppiato grazie ai miei artefatti e ovviamente alle mie statistiche bonus che mi consentono di aumentare l'attacco, la difesa 475 di base con un 132 che mi portano ad arrivare a 500, anzi a 600, quant'è che arriva? 607, che non è affatto male come difesa. L'elemental mastery che è molto importante, o almeno per personaggi che utilizzano, almeno a mio avviso, i personaggi che utilizzano elemento vento ed elemento terra, l'elemental mastery è praticamente una delle cose più importanti da alzare, proprio perché sia il vento che la terra riescono a combinarsi perfettamente con tutti quanti gli elementi, quindi avere la capacità di avere una potenza elementale più elevata, sia per se stesso che per gli alleati, è assolutamente importante. Infatti, come potete leggere su Elemental Mastery, praticamente the higher a character's Elemental Mastery, the stronger the element energy that can be released. Increased damage caused by vaporize and melt del 35.3%. Also increased damage caused by overload, superconduct, electrocharge, shattered and zwirled by 84.7%. Increased damage absorption power of shield created through crystallized by 56.4%. Quindi l'elemental mastery per un personaggio che utilizza tutti gli elementi, quindi riesce in un qualche modo a fare dei danni aggiuntivi tramite tutte le combinazioni, è assolutamente un fattore da aumentare senza ombra di dubbio. Crit rate del 25%, un crit damage del 50%, che non servirà assolutamente grazie alla build che vi farò vedere io. Energy recharge, che può essere molto importante per un personaggio come Venti, per permettergli di spammare in continuazione la sua ulti, che è veramente, veramente forte. Reduce cooldown 0%, ma non ce ne sarà bisogno, dato che lui possiede comunque un elemental skill con un cooldown veramente, veramente basso. Powerful shield, potrebbe essere interessante se ovviamente va in combinazione anche con una Noelle, ad esempio, che dà praticamente gli scudi agli alleati e che consente comunque di avere una protezione maggiore. Per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente tutti quanti i nostri, le nostre percentuali di danno sono tutte standardizzate, quindi 15% per quanto riguarda le resistenze a tutti quanti gli elementi, ma questo è un altro discorso. come potete vedere non ho danni bonus, non ho danni altro, perché vedrete appunto tramite la mia costruzione di artefatti come riesco a gestire bene il danno di Venti. Per quanto riguarda le armi, assolutamente lo Stringless, Stringless penso che sia l'arco perfetto per quanto riguarda Venti, tra l'altro è un arco 4 stelle, quindi probabile che si possa trovare nel mentre si pulli per un personaggio, dato che le probabilità del 4 stelle tra le armi e i personaggi sono equamente divise ogni 10 pull, quindi si ha la possibilità di trovare o un personaggio o un'arma dentro ovviamente i vari banner, tranne giustamente quegli eventi in cui i personaggi tendenzialmente sono il rate up e ogni 20 pull si ha comunque un personaggio focus 4 stelle del banner garantito, quindi bisogna anche mettere in considerazione questo. Se si tentano di pullare le armi appunto ci sono i banner appositi che vi consentiranno di pullare le armi o addirittura il banner generico dove si ha la possibilità di trovare tutto di tutti. Lo Stringless è un arco che è 4 stelle come vi ho detto prima che come potete leggere dal suo potenziamento il mio già è un Refine livello 2 dato che ne ho trovato una seconda copia dove di base abbiamo un incremento dell'Elemental Skill e l'Elemental Burst del 25%. Io ho il 30% appunto perché ho già un Refine di livello 2 e tendenzialmente vorrei trovare altre copie per aumentarne appunto la potenza e il Refine dato che comunque questo arco per 20 è veramente veramente utile. Aumentare del 30% i danni che si fanno con l'Elemental Skill e l'Elemental Burst vi posso assicurare per lui sono una manna dal cielo una manna dal cielo perché come vi farò vedere dopo tramite il Damage Test che andremo a fare come sempre ci consentirà di sparare cifre a partire già anche da 2500 2600 punti grazie anche al set di artefatti che io ho appunto farmato. Ebbene sì io ho farmato perché come potete vedere ho il set completo per meglio dire di 4 pezzi più 1 a random che ovviamente ho messo a parte del Viridiscent Venerer il Viridiscent è un set che può essere farmato tramite uno dei dungeon presenti all'interno del gioco che con 2 pezzi già permette di avere danno vento a nemo aumentato del 15% e con 4 pezzi addirittura abbiamo lo Swirl Damage del 60% in più mettiamo una sorta di Imperil quindi un Elemental Resist Down a tutti gli elementi che si fondono con lo Swirl del 40% per 10 turni quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che venti nel momento in cui effettuerà danni vento Swirl che sarebbero praticamente danni vento concentrati e riesce ad assorbire un altro elemento tramite ovviamente la sua configurazione di base visto che come vi ho detto prima il vento riesce ad interagire con tutti gli elementi in modo diverso metterà la resistenza Down all'elemento che si unirà al vento per ben 10 secondi 10 secondi di 40% Elemental Down è fenomenale perché con tutti diciamo con tutte le combinazioni che si possono fare all'interno del gioco anche per esempio un Razor che metti caso sta facendo un Elemental Skill riesce ad essere inglobato all'interno della diciamo della disposizione del vento in questo caso di venti riesce poi successivamente ad avere un Damage Output migliore perché appunto la resistenza Down all'elemento del Fulmine consentirà al Razor di essere più incisivo anche se già nello scorso video ho spiegato che Razor riesce tendenzialmente ad essere più forte con attacchi normali ma la sua Elemental Skill che si ricarica anche abbastanza velocemente col tasto premuto e non col tasto cioè anzi col diciamo col tasto premuto singolarmente e non tenuto premuto vi consente di essere molto più forti e molto più veloci anche nel rilascio degli attacchi per quanto riguarda le costellazioni ho trovato una copia sola in questo caso la costellazione non mi dà chissà quale vantaggio se non sparare tre frecce quando faccio gli attacchi caricati anziché una sola e quindi fanno un 33% di danno diciamo il danno viene diviso in tre frecce quindi diciamo non è tutta questa grande cosa ma i talenti sono invece la cosa fondamentale da aumentare in primis Skyward Sonnet assolutamente questa è la skill questa è l'elemental skill che utilizzerete di più in assoluto con venti nel momento in cui lo utilizzerete come personaggio fisso in campo e poi Wind Grandode che sarebbe l'elemental burst che è assolutamente ottima dal punto di vista di potenza ma anche dal punto di vista anche tattico perché è veramente veramente forte cioè riesce a raggruppare praticamente tutti i nemici in un unico punto e poi si possono effettuare le diverse combo come vi ho spiegato prima proprio per riuscire a massimizzare i danni ma è una cosa che vedremo tra poco non vi preoccupate e man mano che ovviamente aumenteremo i livelli i danni saranno più alti e le combinazioni elementali saranno più forti poi vabbè questo diciamo è il talento che si sblocca dopo la quarta ascensione quindi avrete modo di sbloccarlo tutti dove praticamente Skyward Sonnet creates an upper current that lasts per 20 secondi quindi diciamo che la corrente d'aria che crea lo Skyward Sonnet dura per 20 secondi e poi anzi no questo qua scusatemi sto ormai che è l'abilità anzi per meglio dire il talento che si sblocca con l'ascensione numero 4 dove praticamente rigeneriamo 15 di energia a 20 dopo l'effetto di Wind Grand Ode che sarebbe l'elemental burst quindi questo è veramente veramente forte tra l'altro se un elemento si combina tramite ovviamente l'effetto speciale di Wind Grand Ode recupera 15 energie anche per quel personaggio che corrisponde a quell'elemento quindi se noi effettuiamo Wind Grand Ode ed effettuiamo una combinazione tra vento e fulmine una volta finito l'effetto della burst ricarichiamo 15 di energia sia per quanto riguarda venti e sia per quanto riguarda Razor ad esempio se l'abbiamo lui nel team quindi veramente veramente comodo per quanto riguarda gli artefatti c'è una piccola cosa che voglio dire ovviamente se non avete la possibilità o non avete la voglia di farmare questo set che tra l'altro io comunque raccomando perché anche se non è un set 5 stelle ma è un set 4 stelle vi posso garantire essere molto molto forte soprattutto per venti vi consiglio vi consiglio un set doppio suddiviso con una qualsiasi combinazione che comprenda Elemental Mastery ed Energy Recharge Elemental Mastery per il motivo che vi ho spiegato prima ovvero l'interazione elementale che venti riesce ad assumere non solo col suo elemento ma anche con gli altri quindi vi consente di essere molto più forti dal punto di vista elementale ma l'Energy Recharge è il pezzo forte perché vi consente di ricaricare prima la vostra Elemental Burst e avere praticamente un circuito di spam continuo tra Elemental Skill Elemental Burst Elemental Skill ed Elemental Burst era tendenzialmente anche la build che giocavo prima con venti di Elemental Mastery e di Energy Recharge e vi posso assicurare che venti praticamente ogni volta che facevo un Elemental Skill ricaricavo talmente tanta energia da avere la Burst già pronta e quindi di conseguenza era uno spam continuo e questo rendeva venti molto forte certo col Viridiscent adesso faccio molti più danni ho una Burst che si ricarica un po' più lentamente ma in compenso ho guadagnato tantissimi danni in più quindi non mi lamento e mi va bene assolutamente così se vogliamo andare un attimo in giro per vedere effettivamente quello che è in grado di fare venti ve lo faccio vedere subito come potete vedere la sua Elemental Skill praticamente si ricarica in appena 5 secondi e avete visto già quanto sono riusciti a togliere l'attacco elevato mi permette anche di tenere venti in campo come potete vedere guardate i danni 700 500 e l'elemental burst guardate un po' che cosa riesce a combinare guardate i danni dell'elemental burst che sono praticamente ogni tick sono 500 di danno 500 di danno 500 di danno grazie ovviamente al fattore che vi ho detto prima del set Viridiscent quindi abbiamo la potenza che praticamente ci viene aumentata dei danni vento e quindi come potete vedere già ho caricato praticamente mezza burst soltanto con due personaggi poi guardate 2600 per quanto riguarda una semplice skill e guardate il tempo di ricarica praticamente nullo cioè quando voi effettuate l'elemental skill con 20 praticamente guardate quanto tempo ci sta col tasto premuto è un 6 secondi che passano letteralmente in un attimo mentre invece tenuto premuto passano un po' di più perché sono 15 secondi però avete da sfruttare anche la corrente d'aria per poter effettuare questa combo abbastanza rotta dove praticamente vi buttate in aria e continuate a fare i danni praticamente da caduta verso i vostri avversari tra l'altro col talento al 4 stelle di 20 la corrente ascensionale dura 20 secondi in più quindi avete la possibilità come potete vedere di effettuare molti più attacchi ma adesso se andiamo ancora avanti voglio farvi vedere ancora quello che riesce a combinare 20 con guardate quanti danni che riesce a fare e praticamente guardate la burst è già completamente carica di nuovo vedete siamo praticamente carichi e guardate anche i danni che riusciamo a fare grazie ovviamente all'attacco al set che comunque essendo di 4 stelle quindi essendo viola ci consente di essere più incisivi anche dal punto di vista d'attacco senza considerare il fatto che 20 riesce ad attaccare in maniera velocissima quindi anche aumentare l'attacco potrebbe essere una strategia valida anche se io comunque consiglio di non cioè consiglio praticamente di puntare sulle elemental mastery e sulle energy recharge l'attacco fondamentalmente lasciatelo per i dps 20 è un personaggio che se non avete questo tipo di build potete utilizzarlo solo per farle entrare fare le skill e uscire nuovamente quindi non siete obbligati a tenerlo in campo mentre invece con una build come questa qua col set viridiscent tenerlo in campo potrebbe essere comunque un'ottima idea perché vi consente di fare veramente tanti danni vi faccio vedere adesso ancora una volta l'elemental burst che è fortissima guardate l'effetto e qualora io dovessi caricare eh ora qua ho lisciato malissimo caccato avrei voluto mettere l'infusione dell'elemento con con razor solo che ho lisciato malamente ho lisciato malamente e guardate già quanto è caricata la burst di 20 grazie ovviamente all'ascensione perché ovviamente grazie all'ascensione ci consente di ottenere energia e praticamente siamo già a metà della sua burst quindi farlo salire di livello conviene assolutamente anche per questo conviene proprio per permettervi di di avere comunque un personaggio molto incisivo dal punto di vista dei danni e anche molto incisivo dal punto di vista tattico ora se io vi faccio vedere questi vediamo se riusciamo a caricare vediamo se riusciamo a caricare la burst in tempo vedete ogni volta che io attacco guardate quanto tempo ci sta per ricaricare la skill ci sta veramente poco cosa e parte il critico sono 3000 danni che volano così come se niente fosse anche i danni con l'arco non sono male 200 300 400 cioè sono abbastanza interessanti come danni ecco adesso vi faccio vedere l'interazione con l'elemento in questo caso acqua perché ho barbara ecco qua vedete l'interazione con l'elemento boom praticamente non hanno avuto neanche il tempo di mettersi in piedi sì che questi comunque sono avversari più deboli perché sono avversari che si incontrano in mappa e e non daranno tanti problemi dal punto di vista del combattimento però già vedere che al livello del mondo io adesso ce l'ho al mondo livello 3 perché sono a che livello è il mio mondo a livello mondo 4 addirittura girare per la mappa in maniera così abbastanza semplice vi posso garantire non è da poco ho letto comunque anche di tante persone che hanno difficoltà a girare all'interno del proprio mondo proprio perché hanno livellato il rank avventuriero ma i personaggi sono rimasti un passo indietro e quindi di conseguenza non si riesce ad esplorare bene la mappa o non si riesce ad esplorare la mappa in tutta tranquillità quindi diciamo che i miei consigli fondamentalmente parlando sono questi per venti anche perché diciamo che una combinazione migliore non riuscirei assolutamente a idealizzarla almeno io personalmente e tra l'altro come avete potuto vedere i danni che riesco ad effettuare singolarmente o in gruppo col mio venti sono parecchi sono veramente parecchi avere un 2.500 anche 3.000 dipende se entra il critico di elemental skill che si ricarica ogni 6 secondi è un qualcosa di spettacolare senza considerare il fatto che poi l'elemental burst si ricaricherà di tot punti automaticamente dopo averla effettuata è come se praticamente avessimo un cooldown ridotto dell'elemental burst quindi portarlo su anche come ascensioni vi consentirà di essere molto molto incisivi e tra l'altro permettendovi di fare tutti questi danni venti può restare anche in campo quindi io e il mio team in questo momento è suddiviso con Razor e venti che sono i miei due main personaggi che restano all'interno del campo per fare danno e poi xianling e barbara che vengono utilizzate soltanto come switch barbara scusatemi xianling per utilizzare l'orso o la sua elemental burst e quindi entrare in combinazione con Razor per fare le combinazioni di overcharge che mi consentono di fare molti danni oppure utilizzare l'orso che dà fuoco praticamente il terreno o dà fuoco i nemici per poi utilizzare la burst di venti e fare un attacco combinato vento fuoco che mi consente poi successivamente di fare più danni con xianling stessa xianling è un altro personaggio che sto iniziando a rivalutare lei e Bennett sono i miei main fuoco quindi aspettatevi di vedere un video anche su loro due a breve e poi barbara invece che è praticamente la mia curatrice anche perché barbara faccio un piccolo spoiler del video della build di barbara avendo utilizzato questo libro che è praticamente un libro tre stelle però molto 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 valido che io consiglio assolutamente di tenere soprattutto per personaggi come barbara che vengono utilizzati solo per essere switchate per dare cure e altre robe dove praticamente nel momento in cui si switcha il personaggio il nuovo personaggio che prende il posto all'interno del campo da battaglia prende un attacco aumentato del 48% per 10 turni quindi veramente veramente ottimo come effetto infatti adesso vi faccio vedere barbara che switcha per esempio con razzo ho le frecce praticamente che vanno verso l'alto proprio perché in questo momento razzo all'attacco ha aumentato del 48% quindi nel momento in cui noi utilizziamo barbara ad esempio solo per fare la cura switchiamo e rimettiamo razzo non solo abbiamo lo status wet che mi permette di fare electro charge e quindi mi consente di fare più danni ma ho anche il bonus di potenziamento attacco che mi consente di essere più incisivo e a me piacciono questi giochi perché ci sono tutti questi meccanicismi anzi meccanismi per meglio dire non so da dove mi è uscito meccanicismi tutti questi meccanismi consentono di sfruttare potenziamenti attacchi danni eccetera eccetera proprio per darti una potenza costante all'interno del campo soprattutto se stai giocando in solo e quindi hai la possibilità di spaziare con i tuoi personaggi infatti utilizzare quattro personaggi è assolutamente impossibile cioè avere un team fisso di quattro personaggi che stanno sempre sul campo è praticamente impossibile ecco perché appunto il mio consiglio è quello di utilizzare due main che facciano danno e che vi consentano di essere forti e gli altri due come supporto proprio per collegarsi alla potenza degli altri personaggi e permettere di fare combinazioni e tanta altra bella robetta detto questo io spero che il video sia stato abbastanza utile e che sia stato soprattutto chiaro quindi un piccolo recap giusto per fissare bene i concetti 20 personaggio di supporto utilissimo a tutti i team e a tutti i party proprio essendo di elemento vento e quindi riesce praticamente a collegarsi a tutti target principali da aumentare energy recharge ed elemental mastery se non si ha la possibilità di farmare il set completo viridiscent che tra l'altro vi faccio vedere anche dove si può farmare a partire dal rank numero 30 se non erro no questo dovrebbe essere il martial artist si il viridiscent dove si trovava adesso non mi ricordo più dove si trovava il viridiscent forse era qui nope oddio dove si trovava il viridiscent no qua c'erano i libri qua c'erano aspetta forse era qua si eccolo qua infatti avevo segnato col piccone proprio perché io farmavo praticamente questi set a partire dal rank 30 avrete la possibilità di entrare nel domain of blessing dance of steel numero 2 quindi già a partire dal rank 30 avere la possibilità di trovare questo set di pezzi io penso sia abbastanza buono poi ovviamente aumentando di rank avete la possibilità di aumentare comunque la probabilità di droppare artefatti andando nel livello più difficile però già anche a partire dal livello 2 si possono farmare ora c'è chi pensa di non farmare artefatti al di sotto del rank addirittura 40 o al di sotto del rank 35 io penso che questi determinati set farmati subito quindi già a partire dal rank 30 fino ad arrivare al rank 40 dove poi magari si cercheranno gli artefatti a 5 stelle e si perfezioneranno magari tutto quello si perfezionerà magari tutto quello che già abbiamo a disposizione direi che secondo me una farmatina ci può anche stare fermarsi un attimo e farmarsi questi pezzi di equipaggiamento secondo me può valerne la pena io non ci sono stato tantissimo devo essere onesto sarà anche che ho avuto abbastanza fortuna nel dropparne praticamente anche due di fila che erano tra l'altro in slot diversi perché la cosa importante poi è anche dropparli in slot diversi però diciamo che a maggior ragione fondamentalmente sono stato abbastanza fortunato e ho fatto tutto il set in poco tempo quindi io consiglierei anche magari una volta al giorno o comunque una volta ogni 20 resine mettiamo così di provare a fare una volta il dungeon e sperare di ottenere il pezzo che ci interessa poi ovviamente sono scelte personali il mio è un consiglio dato che questo set è studiato appositamente per i personaggi vento e venti in questo caso lo sfrutta in una maniera pazzesca quindi mi sento di consigliare questo set però se non volete perdere tempo utilizzate un doppio set a due pezzi dove due pezzi aumentano l'elemental mastery e due pezzi aumentano l'energy recharge exile instructor possono essere tranquillamente dei set da utilizzare anche a tre stelle perché tanto si trovano abbastanza comunemente questi set fortunatamente quindi non c'è assolutamente problema detto questo io vi ringrazio per aver visto il video adesso vado a farmi le mie daily e la mia daily routine come faccio ogni mattina e dopodiché io vi aspetto come sempre in live su twitch o con i prossimi video su youtube bye bye ciao a tutti